Mi accompagnavo alle tre delle persone interessate a questo monumento per poter fare delle riprese cinematografiche, entrando in chiesa, visto che la tega del Beato Timoteo e la tega del Beato Bernardino erano state manomesse, addirittura quella del Beato Timoteo era stata rotta e i resti del Beato Timoteo erano stati buttati in mezzo alla stanza. Quindi ho fatto la denuncia ai carabinieri, sono venuti ai carabinieri, di sera alle 8 abbiamo finito, è stato messo sotto sequestro l'aria, stamattina sono stato ai carabinieri a fare ulteriore documentazione ed è stata affidata a me. Stanno indagando quelli del reparto dei carabinieri proprio preposto alla tutela dei beni ambientali.